Buongiorno a tutti, ecco l'efficienza dell'Emilia Romagna nel primo Open Day vaccinale, vedete? Qui ci sono persone in fila da prima delle 5, non avrebbe chiesto come sono messi col coprifuoco, però vedete la situazione che si sta realizzando e qui c'è uno scorcio della fila che arriva fino, perché è pratico di Bologna, fino al Roadhouse e poi fino a via Calzoni, di Filippana, lungo via Talingrado.